La pallannuoto di Serie A torna a Vichequenzi dal 18 al 19 settembre nel nome del leggendario campioni allenatore di nuoto e pallannuoto Fritz Dennerlein, scomparso 30 anni fa. Canottieri positivi, Orarinantes Salerno, Anzio Waterpool e Roma a nuoto e gli atleti paralimpici dell'expert Napoli Lions del centro sportivo Portici si sono contesi il trofeo in campo montato nella suggestiva marina di Vico e le stesse acque che videro allenarsi Dennerlein dopo guerra. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!